Non è viminale o morte, insomma, no? No, assolutamente, questo ragazzi, assolutamente no. Ma Salvini è così indebolito che non riuscirete a ottenere questa voltrona importante? Non penso che sia quello il problema, il problema è trovare una quadra, perché ogni volta che si fa un governo non è solo una persona, ma ci sono tante persone. E bisogna trovare e fare un governo con le persone migliori in questo determinato momento storico, che è un momento molto difficile per l'Italia. E quindi bisogna che sia un governo compatto, unito, con le persone che lavorano nel migliore dei mondi. Poi io penso che gli elettori del Veneto abbiano dato un segnale, come quelli della Lombardia, ma sono convinto che se noi governiamo bene e governiamo uniti e compatti, i nostri elettori torneranno, perché comunque sanno che la Lega li rappresenta nel migliore dei mondi. E in questo momento è stata brava la menù. Quindi convinti a lei.